Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef, con me Antonella Cateri. Ciao a tutti e con me invece il nostro Chef Nicola Bizzarri. Bene, la ricetta di oggi abbiamo un filetto di orata che andremo a farcire con mozzarella di bufala e servire su una spuma di capolfiore bianco. Buono! Gli ingredienti sono filetto di orata, mozzarella di bufala, olive, limone, basilico, per quanto riguarda il pesce. Per quanto riguarda la spuma di capolfiore abbiamo aglio, olio extravergine di oliva, capolfiore bianco, peperoncino rosso, dolce e latte. Un po' tanti ingredienti, ma vedremo poi il risultato di questo piatto. Andiamo, partiamo prima con la cottura del cavolfiore. Cavolfiore, andiamo a dare una sgrossata di foglie che non ci servono. Sì, sì. Qui, poi prendiamo man mano i pezzetti, li andiamo a tagliare e a cucinare. Eccoli qua. Stavoli, cavolfiore? Eh? Questi devono restare i cavolfiore? Ecco, no, li cuciniamo con il latte per poi frullarli. Un cutter. Olio extravergine di oliva. Facciamo rosolare uno spicchietto d'aglio, schiacciato. Mettiamo il stracofiore. Belli sottili, così si cucinano prima? Prima, sì. Anche hanno uno spessore per mettere meno latte. Un pizzico di sale. Non sa che io devo fare tutte queste domande, se no le persone a casa penso che le vogliono fare loro, però noi non li sentiamo. Assolutamente. Un pizzico di sale, un po' di peperoncino rosso dolce, macinato. E bagniamo con del latte fresco. In questo caso abbiamo un latte intero. Lo andiamo a coprire. Quando è coperto, smettiamo di mettere il latte. Lo lasciamo cucinare. Quanto tempo, più o meno? Il calore è moderato. È un 7-8 mili, il tempo di ammorbidirsi e rilassi un po' il latte. Vabbè, uno se ne rende conto già vedendolo, no? Ovviamente più si ritira, più quando andiamo a frullare diventa spumoso, cremoso. Andiamo avanti con la cottura. Passiamo di qua. Sfillettiamo la nostra orata. Togliamo la pelle. Anche se è stata squamata, però poi in cottura dovrebbe un po' arricciarsi. A noi ci serve invece una carne distesa. Possiamo dare una battutina per cercare ancora di allargarlo in un foglio di carta da forno. In questo caso non abbiamo un mattarello, ma basta anche un semplice cucchiaio grande. Si basta poco a poco per renderlo più omogeneo anche come forma. Non serve molta forza, se no tende ad aprirsi. Eh sì, perché essendo pesce si apre subito. Semplice. Partiamo dalla parte della pelle. Mettiamo un pizzico di sale. Prendiamo dalla nostra mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala la mettiamo? Sì. Andiamo a farcire. Ecco. Così. Delle olive che andiamo a togliere. Nocciolo. Nocciolino. Sempre ingredienti mediterraneo. Eh sì, così è bello perché è una... La cucina mediterranea. La può fare pure a casa queste ricette. Foglione di basilico. Perché sono cose che si trovano. Assolutamente. Una grattatina di... Una grattatina di... Ci sono delle ricette che sono talmente difficili che una... Io certamente... Anche per recuperare l'ingrediente. Infatti, quello è... Avvolgiamo... In una maniera così. Un sacchettino. Un po' sacchottino, no? Mettiamo in una placchetta... Da forno. Un pizzico di sale estremamente. Un filo d'olio extravergine. Di oliva. E inforniamo a 140 gradi. Per un 12-13 minuti. E anche questo sta andando. Come diciamo... Diciamo la cottura del nostro filetto di orata. E dei nostri cavolfiori. Eccoci qui. Antonella. Sì. I nostri cavolfiori sono belli stufati. E con il latte. Quindi si è ristretto per essere frullati. Il nostro filetto in forno è già... Pronto. Già cotto. È pronto. Andiamo a togliere. Mi raccomando. Dopo la funzione pirolitica. Sì, sì. Per disinfettare e pulire il forno. Il nostro filetto lo lasciamo un attimo riposare. Qualche minutino. Guardate che bello. C'è avvenuto. Proprio così perché l'abbiamo battuto, no? Ah, infatti. C'è la differenza. Sì. Frulliamo. Sì, perché andiamo a rompere un po' quelle fibre che tendono... Frulliamo un po' il nostro cavolfiore. Un cucchiaione per poter mettere la nostra spuma di cavolfiore. Ah, è bella. Sì, sì. Il nostro peperoncino gli dà quel colore un po' su rosa, no? Sì, sì. È bellissimo. Tagliamo la base del piatto. Mettiamo il nostro sacottino, no? Ecco qui. Un po' di peperone rosso secco. Pronto per mangiare, eh? I colori ci sono, rosso dell'amore verso il cibo, quindi perché ama mangiare e gustare. Augurandoci che questa ricetta vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio. Cucina Vitale Pasta alla molisana Olearia Ortuso Del Giudice Il fiore del latte Cupido Hot Plate